Siamo arrivati alla chiusura del ciclo dedicato al bimovie americano. Siamo partiti dagli anni sessanta di Roger Corman e abbiamo fatto un viaggio dentro i meandri del cinema a basso costo americano. Un viaggio che si è rivelato perfetto per raccontare anche i meandri dell'animo umano e delle nostre paure profonde. Per cui mi pare coerente chiudere questo primo gruppo di puntate con quello che è considerato l'Orson Welles della serie B, un maestro di stile e invenzioni a bassissimo costo con le quali scavare dentro l'oscurità e gli abissi della psiche. Il regista per cui povertà era sinonimo di libertà. Oggi CinemaScope vi parla di Edgar G. Ulmer. Ulmer nasce in Cecoslovacchia nel 1904, gira per l'Europa tra Vienna e Svezia dove studia architettura e si dedica alla scenografia teatrale cinematografica firmando gli allestimenti per registi come Stiller, Pabst e persino Lubitsch. Finisce negli Stati Uniti come assistente regista di Murnau e poi nel 30 passa alla regia con un caposaldo dell'avanguardia tedesca, Uomini di Domenica, diretto assieme a nomi che poi faranno molta strada a Hollywood come Fred Zinnemann o Robert Siodmak. Hollywood si accorge di lui nel 1934 quando la Universal gli chiede di girare The Black Cat, un horror psicologico e quindi perfetto per un b-movie, con due leggende dell'horror di serie A come Boris Karloff e Bella Lugosi, cioè Frankenstein e Dracula, alle prese con un intreccio che prende in prestito Edgar Allan Poe e lo declina in un intreccio di ossessioni e morbosità erotiche. Il film è girato in 15 giorni con soli 96 mila dollari, ne incassa il triplo e lancia la carriera del regista che però per aver stretto un rapporto amoroso col nipote del capo della Universal, cioè Carl Emle, si dovrà accontentare di quello che normalmente viene chiamata Poverty Row. Il Poverty Row è una strada di Hollywood ma soprattutto un concetto. La strada è l'odierna Gower Street. Il concetto invece è ciò che confinava in quella strada tutte le case di produzioni piccole o piccolissime che facevano prodotti rapidissimi e molto economici e utilissimi però per la distribuzione in provincia, nelle sale dei circuiti minori e del cosiddetto, appunto ne abbiamo parlato tante volte, il double bill, il doppio spettacolo. Questi studios in miniatura a volte coglievano successi clamorosi, altre volte venivano assorbiti dalle major, soprattutto quando erano capaci di realizzare buoni film, a volte diventavano major a loro volta, come la Columbia per esempio, ma più spesso finivano nel dimenticatoio nell'arco di pochi anni, come la Producers Releasing Corporation, il più piccolo degli studi del viare della povertà, di cui Ulmer divenne il re. Fu una scelta per il regista quella della povertà. Ero io a capo della produzione, ha detto. Potevo fare quello che volevo, visto che il direttore di produzione si affidava completamente a me. Voleva soltanto tre cose, che girassi il film senza denaro, che ne incassasse e che fosse buono. E quella libertà gli diede modo di realizzare nel 45 The Tour, il più celebre e bello dei suoi noir, che era il genere che gli è riuscito meglio. Una storia kafkiana sul destino, che vede al centro un pianista che durante il viaggio per raggiungere una cantante di cui è innamorato, finisce coinvolto, suo malgrado, nella morte di un uomo. La paura di venire considerato un assassino lo porta a una serie di scelte e incontri, uno più fatale dell'altro. Come si può intuire da questo plot, The Tour è il noir nella sua essenza, un uomo e le tragiche conseguenze della sfortuna. Una maledizione terrena che rilegge crudamente la tragedia classica. Costato intorno ai 100.000 dollari, anche se la leggenda voleva che ne costasse 20.000, ne incassò almeno un milione, quindi dieci volte tanto, risultando uno dei più alti margini di profitto dell'intera storia del cinema noir. Pochissimi personaggi e pochissimi luoghi, due settimane di ripresa, eppure The Tour pare un campionario delle idee e possibilità del genere, sia dal punto di vista narrativo che stilistico. Partiamo per esempio dalla voce over che punteggia il racconto e che diventa, dopo l'inizio in cui sembra replicare ciò che stiamo vedendo, la voce interiore del protagonista, la sua coscienza, il futuro che parla per lui. E infatti il film è un lungo e articolatissimo flashback, come da tradizione del noir. Un flashback che mostra il lato oscuro del road movie, dove però più delle strade e delle mete contano le fermate e le deviazioni. Detour, questo significa deviazione. I gradini progressivi che portano sempre più vicini alla disperazione. Poi ci sono i dialoghi tesissimi, che rendono ricche le lunghe scene chiuse tra quattro mura o in un solo ambiente. Ciò che però rende il film degno dell'ammirazione e dell'amore che in molti gli hanno tributato, da Truffaut a Scorsese, sono le idee visive. Cioè il modo in cui Ulmer reinventa gli elementi tradizionali del genere, come le luci, le ombre, la nebbia che arriva a invadere i ricordi quando la situazione si fa sempre più drammatica. Ulmer, nonostante i pochi soldi, non rinuncia a muovere la macchina da presa, a dare al film un aspetto avvolgente e sontuoso proprio come i grandi noir delle major, a usare le dissolvenze e le soggettive in chiave modernissima, tanto che poco a poco solleva il livello del racconto verso la pura ambiguità. E ci si chiede se il punto di vista che il film ci sta illustrando, che noi stiamo vedendo, non sia una bugia detta allo spettatore. Dopo quel successo Ulmer non toccò più vette simili, forse con Fratelli Messicani nel 55, che è più noto per essere stato tra le ispirazioni di Jules G, ma detta di Truffaut, che per il suo valore. Continua comunque a solcare il viare della povertà in tutte le sue sfumature, garantendo lavori efficienti, a budget irrisori, girando il mondo con le coproduzioni internazionali per le quali in più di un'occasione aggiustava copioni o produzioni vere e proprie, curava corregie, cercava di sistemare il sistemabile, arrivando anche in Italia negli anni 60, luogo l'Italia dove girò l'ultimo dei suoi 57 film esistenti. Il titolo è Sette contro la morte. A questi 57 film vanno poi aggiunti un'ottantina di titoli andati perduti. Dopo gli omaggi tra gli anni 50 e 60 dei Cagli du Cinema, sarà Peter Bogdanovich a sdoganarlo definitivamente presso la critica internazionale con un libro intervista uscito due anni dopo la sua morte, quindi nel 1974. Nessuno ha mai fatto buoni film in meno tempo e con meno denaro di Edgar G. Ulmer. Questo è scritto in quel libro da Peter Bogdanovich ed è una frase ideale per riassumere un intero filone, quello a cui CinemaScope ha cercato di rendere onore. Io sono Emanuele Rauco e per l'appunto questo è CinemaScope, finisce il ciclo del B-movie, ci ascoltiamo fra qualche puntata non solo con un nuovo ciclo ma anche con un altro episodio che invece sarà uno stand alone, un episodio singolo. Io ringrazio Valentina Cestra di Bacchemonolab per il supporto, ringrazio Emiliana Santoro per la parte tecnica e ringrazio tutti voi che mi ascoltate, che mi scrivete, che mi seguite per la vostra pazienza e per il vostro supporto. Mi raccomando continuate a condividere questo podcast, a iscrivervi, a commentarlo e a far sapere in giro che c'è anche un podcast che parla di cinema del passato in una maniera spero un po' originale. Ci sentiamo appunto fra un paio di settimane con la nuova puntata, nel frattempo ciao!